Prima di iniziare ancora un po' di delirio con la Secret Box, vorrei dire che questo allestimento è fantastico, sembra veramente di suonare nel soggiorno, questo concerto nasce da qualche chiacchiera, nasce da delle idee, nasce anche da qualche bicchiere di vino che mi ha in diverse situazioni convinto a farlo perché non è una situazione che uso da parecchio tempo e quindi io sono uno più timoroso che coraggioso da questo punto di vista per cui avevo bisogno di una spinta, avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse che forse era il caso di provarci, anche se dentro di me avevo voglia di farla questa cosa, ma soprattutto avevo bisogno di qualcuno che avesse un gusto estetico di questo genere per mettere insieme tutta questa coreografia, questa scenografia e soprattutto che avesse la voglia di starmi vicino nelle mie paranoie, nei miei deliri, quindi è in giro e non so più dov'è, non la vedo, però vorrei che facesse un applauso ad Arianna perché le più foto sono qua fuori, le potete vedere, se voi ascoltate questo concerto fatto così, visto così, messo così, poi quindi se dovete lamentare sapete anche dello stesso modo da chi cantare, scherzi a parte, è anche merito suo che mi ha dato la forza in un certo modo di crederci a farlo e di allestire questa cosa, grazie mille. Grazie mille. So do it now or you'll lose your job Because the plan cannot be stopped I'll give this money like a clock this time And do it at home for my kids and wife I know there's loads of people who praise for my love I'll swallow fast and might feel a fall Because the plan cannot be stopped And Mr. Counting your money over You're speculating all my schemes and bones Yeah, yeah She's been in battles, beat it a thousand times I climbed a belt and I fell even while The shredder's getting closer And now I'm way on the cross I'll swallow fast and might feel a fall Because the plans cannot be stopped You know the plans cannot be stopped You know the plans cannot be stopped You know the plans cannot be stopped Yeah, thanks Thank you Thank you Grazie.